Care amiche e amici, è Pandora TV che vi parla. Siamo ancora qui, mentre sta per cominciare un altro giro intorno al sole. La situazione è fluida e incerta. Tutto attorno è grande confusione, sia nel governo che nel paese. E qualcuno pensa che noi possiamo restarcene zitti o addirittura che possiamo andarcene? No, noi non possiamo farlo. Noi siamo obbligati a stare qui in nome della verità e della giustizia. Noi sentiamo, come la sentite voi, la necessità di mettere ordine, di costruire dei punti fermi dai quali ripartire. Sono cinque anni che noi stiamo cercando di dare ai molti che ancora non ce l'hanno un'altra visione del mondo. E ci stiamo riuscendo. La gente che ci guarda dimostra di avere capito quello che stiamo cercando di fare. Per questo cercheranno di ammutolirci. lo faranno in ogni modo e lo stanno già facendo, cercando di escluderci da ogni contatto con il loro pubblico, che continua a essere molto grande. Ci bolleranno in tutti i modi, ci affibieranno tutti gli epiteti immaginabili, ci diranno che siamo dei complottisti, ci diranno che siamo dei produttori di fake news. Quindi avete capito che non è stata una passeggiata semplice e non sarà la prossima, una passeggiata semplice. Per questa ragione più ci aiuterete, meglio potremo difenderci. Noi vogliamo contribuire a creare una grande famiglia civile perché Pandora vuole essere parte, contribuire, aiutare un grande risveglio nazionale, intellettuale e morale. Un grande movimento che possa cambiare l'Italia, dove tutti si possa lavorare e vivere meglio. Noi non siamo per lo scontro tra giovani e vecchi, tra genitori e figli, tra uomini e donne. Noi siamo per un'Italia fuori dal sistema della guerra, cioè un'Italia neutrale. Noi siamo per un'Italia libera, indipendente e sovrana. Questa è Pandora TV. Aiutandola aiuterete voi stessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.